A voi Didu Paroli Fyrdi, anche me! Ludovica, Mattia, ciao sono Gianfranco, Madonna tecnico musiche, Tirsi, faccio il suddato romano, Angelo, Paggio, Maschera, Aiuto Palco, Responsabile degli Angeli, Narciso, Soldato, Paggio, Premago, Aiuto Palco. Quando ero più giovane ho interpretato all'occorrenza la parte di Paggio e di Soldato, dopodiché per ovvi motivi mi è cresciuta la barba e ho deciso di intraprendere soltanto la carriera di Soldato. Ho messo la musica dei Re Maggi sopra l'angelo annunciatore. In una scena, mentre ricoprivo il ruolo di Narciso, entrando in casa, sono inciampato in uno sgabello e sono caduto davanti a tutti. Una delle scene più strane che ho visto è stata quando all'occorrenza alcuni adulti si sono travestiti da angioletti e sono entrati in scena camminando sulle ginocchia. La Madonna, il tecnico musiche, Tirsi. Tra dieci anni mi vedo sicuramente con più barba e, perché no, come centurione romano. La mia battuta preferita è quella di Tirsi quando stiamo per entrare io, l'altro soldato, il centurione. Il centurione bussa alla porta e Tirsi dice sarà Giovanni Rana.